Romena ha una grande bellezza, finita pubblicità progresso, è chiuso lo spot, Romena ha una grande bellezza anche di incontrare storie e tante storie che passano di qua naturalmente poi proseguono il loro cammino, in altri casi ci sono persone che si sono soffermate e dopo l'incontro con Romena hanno voluto dare una svolta profonda alla loro vita e oggi noi vogliamo festeggiare con voi con grande gioia un evento, sono i dieci anni di una realtà che è vicina a Romena fisicamente e col cuore, è la realtà della comunità di San Pancrazio e voglio qui Rita e Vittoria, eccole qua, perché non solo dieci anni vanno sottolineati ma anche perché è proprio pertinente al tema di questo fine settimana, un nuovo inizio. Rita e Vittoria hanno fatto questa scelta venendo da un'esperienza conventuale, addirittura Rita tu da quanti anni eri in convento quando hai fatto questa scelta? 23. 23 anni, non si era stufata, si dice così, da noi della vita religiosa voleva continuarla ma aveva bisogno di un'area diversa. Sì, veniamo tutti e due da un percorso in un monastero dominicano a Bergamo e di questa esperienza custodiamo il desiderio del silenzio e la ricerca della verità. Per noi è importante a San Pancrazio accogliere le persone, tenere la casa sempre aperta perché le persone che vengono da noi possano incontrarsi, ma incontrarsi condividendo quello che hanno nel cuore, quello che hanno. l'esperienza monastica che ho fatto mi ha aperto a un percorso di apertura al nuovo, quello che arriva, di ogni giorno di rinnovamento, di accettare e guardare ogni giorno quello che arriva. Quindi ecco, quello che mi sembra di capire è che c'è stata per te come religiosa una continuità rispetto a quello che vivevi in convento, probabilmente però in una modalità diversa di cui tu avevi bisogno allora. Sì, quello che abbiamo anche condiviso con le monache del monastero, con cui siamo ancora in contatto, è appena stata da noi la priora e ogni tanto viene anche a farci visita. Quello che abbiamo condiviso con loro subito dall'inizio è che volevamo avere una continuità con la nostra vita, quindi con i nostri voti. Abbiamo mantenuto i voti che abbiamo fatto, però volevamo una nuova apertura di condivisione con le persone che vengono a casa nostra e che non è possibile fare in un monastero. In quel momento immagino questo nuovo inizio non deve essere stato facilissimo deciderlo, sceglierlo e cominciarlo. No, gli inizi sono sempre come, io prendo l'esempio del terremoto, cioè una cosa che si squarcia e che devi affrontare la lotta e il buio. Mi viene sempre in mente la lotta di Giacobbe nella Bibbia. Giacobbe che lotta con questo sconosciuto. La vita è questo sconosciuto che ci viene incontro ogni giorno e con cui dobbiamo confrontarci e vedere dove vogliamo andare, dove siamo diretti, dove desideriamo appoggiare il nostro cuore. Poi ti chiederò un'altra cosa, ma intanto voglio sentire anche il punto di vista di Vittoria. Tu, Vittoria, eri anche tu in convento, ma era una scelta più recente, più fresca, quando hai deciso poi di intraprendere con Rita questo cammino. Sì, è stata una scelta che ho preso in età abbastanza matura, diciamo così, però era già a diverso tempo che frequentavo il monastero e comunque c'è stato un cammino di avvicinamento che viene da molto lontano. Come ha detto Rita, non è facile entrare in un monastero ma è ancora più difficile uscire perché ti sembra di aver sbagliato tutto, ti sembra di non aver capito niente. Non è che ora si è capito tutto, anzi, se mai i dubbi sono aumentati, però il cammino di San Pancrazio ci ha insegnato che camminiamo con l'infinito che abbraccia ciascuno di noi ma anche con le persone e per noi questo è essenziale. Quello che è stato l'inizio del nostro cammino, che è stato segnato dalla fatica, dalla paura, dal dubbio. Quando sei lì sei veramente in un momento in cui non sai cosa fare, però avevamo dentro ed abbiamo ancora oggi un sogno che ha portato avanti e spinto la nostra vita e questo sogno è quello di fare casa prima di tutto con noi stessi, fare casa con Dio e fare a casa con le persone. C'è una frase che ha condotto un po' la nostra storia da quando anche siamo a Romena, l'avevo letto sul librino di Romena che dice così, beato chi ha il coraggio di sognare ed è disposto a pagare il prezzo perché questo sogno si realizzi nella storia. Ecco questo sogno è stato pesante, difficile perché comunque non è facile affrontare un cambiamento così radicale, però è quello che spinge ancora la nostra vita oggi. Per quelli che non conoscessero l'esperienza di San Pancrazio io vi do almeno una coordinata geografica. Si trova sulle colline che vanno verso il Prato Magno a circa 20 chilometri. Da qui, immerso nel cuore della montagna, è la canonica di una chiesina che è stata tra l'altro affrescata dal loro due, era una canonica che era stata ristrutturata ma inutilizzata, quindi hanno aperto una porta che stava chiusa da sole nel cuore della montagna e hanno cominciato a accogliere persone. Io chiamo San Pancrazio l'eremo dal cuore di donna perché c'è un'ospitalità propriamente femminile, una grandezza, una bellezza di attenzioni che chi c'è stato sicuramente può testimoniare. Però vorrei chiederti se dovessi descrivere quello che succede a San Pancrazio, le attività che si svolgono. Allora innanzitutto tutte le attività che noi proponiamo sono attività che mettono al centro la persona e al cuore di tutto c'è la persona, il suo prendersi cura di sé e poi prendersi tempo e prendersi spazio anche per pensare perché forse oggi c'è bisogno di trovare luoghi e tempo per poter pensare e riflettere sulla vita e riprendersi in mano alla responsabilità della propria vita perché pensiamo che ci stia sfuggendo di mano un po' la vita e allora anche un luogo dove imparare a fare spazio dentro di sé ma anche imparare che non possiamo occupare tutti gli spazi e un luogo dove puoi mettere, puoi dire qui mi fermo e comincio a pensare e sono attività che vanno al centro della persona, del cuore dell'uomo e della donna di sempre e questo offriamo noi alle persone. Io vorrei chiedervi a tutte e due una riflessione finale perché immagino che i dieci anni, il compleanno, sì sia bello, avete fatto una bella festa, momenti in cui uno dice beh insomma abbiamo fatto tanta fatica ma tutta questa fatica ha un risultato ma sono anche momenti in cui guardando quello che si è fatto ci si prova un po' a sperimentare anche sul futuro, si pensa a quello che potrà essere il prossimo passo. Ecco vorrei che voi sintetizzasse per noi un po' la riflessione che avete fatto tra di voi in occasione di questi dieci anni. Ma io ricordo quando abbiamo aperto la prima volta la porta di San Pancrazio e ci siamo trovati davanti questa bellezza e abbiamo pensato subito dobbiamo diciamo dobbiamo investire sulla bellezza e questo è quello che vogliamo fare, investire sulla bellezza che sta dentro di noi, che sta dentro ciascuno di noi ma che sta anche fuori e quindi anche nei corsi che proponiamo c'è questo corso di icone che per noi è importante perché per noi è importante realizzare qualche cosa con i colori perché i colori ci aiutano a vedere il nuovo ed andare avanti verso il nuovo. Questo è quello che vogliamo cioè di continuare a lasciare aperte le porte e vedere quello che che la vita ci ci viene ci fa venire incontro. e per te Vittoria? Ma io ho sperimentato anche insieme a Rita che questo momento è sempre una ripartenza e ci siamo dette che comunque anche se abbiamo ancora dubbi facciamo fatica, abbiamo paura c'è sempre la possibilità di ricominciare con noi stessi prima di tutto con Dio e con gli altri e poi mi venne sempre in mente quell'immagine del libro della Bibbia che dice che il popolo di Israele aveva di notte un fuoco, una fiammella che gli indicava il cammino, gli faceva luce e di giorno una nuvola per ripararlo dal caldo. Cosa voglio dire? Quando facciamo fatica non riusciamo a capire dove andare e sapere che abbiamo comunque tanta luce quanto basta fare il primo passo per noi è importante e quindi questo sarà il nostro cammino pensare che non siamo qui sulla terra per essere perfetti, sicuri, per avere tutto chiaro ma per essere incamminati e questo per noi è il nuovo inizio e spero che sia così anche andando avanti nonostante le fatiche comunque la certezza che un cammino si apre sempre. Io ricordo benissimo quando Rita e Vittoria venivano a Romena nella fase più difficile che quella di passaggio in cui senti un disagio ma non sai dargli una voce, un nome, una destinazione e guardate anche solo guardarle oggi e vedere quello che hanno realizzato è motivo di grande gioia per tutti noi e quindi bravissime. avanti così. Grazie.